Il Winterfest sta per arrivare ragazzi, oramai siamo a dicembre, non manca tantissimo alla fine dell'anno e sappiamo che ci saranno un sacco di novità che riguarderanno proprio questo evento tanto sentito da Epic Games. Oggi nel video vi faccio vedere un po' di questi leaks, vi parlo anche di Spider-Man e di alcune curiosità davvero molto interessanti. Ci spostiamo subito allora per parlare del primo argomento di oggi ed è una notizia davvero fantastica. La versione 19.01 è stata aggiunta negli staging server. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è già pronta la prima patch della season 1 del capitolo 3 il che ci fa pensare che molto probabilmente martedì prossimo potremmo finalmente aggiornare e vedere un attimino quello che succederà in game. Sappiamo che ci saranno delle novità per quanto riguarda i dinosauri, poi ve ne parlo. Magari arriverà proprio anche tutto il discorso del Winterfest di cui vi ho parlato qualche secondo fa. Ma andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi perché abbiamo anche la certezza che arriveranno delle nuove armi. Per adesso ce ne sono davvero poche e c'è un grandissimo dibattito su queste armi che hanno deciso di tenere. Quindi i due mitra, la mitraglietta, quei pompa che sono un po' diciamo ancora non tanto apprezzati e soprattutto la grande decisione di togliere tutte le armi classiche di Fortnite. Ma guardate che cosa ho trovato. Arriveranno molto probabilmente delle versioni mitiche di un sacco di armi. La cosa che mi fa storcere un pochettino il naso è che ci sono tantissime armi che adesso non sono presenti. Quindi non vorrei che questa schermata che vi sto facendo vedere sia poi relativa a Salva il Mondo. Perché personalmente, a meno che non facciano uno stravolgimento e durante tutta la season trovino dei modi per reinserire gradualmente tutte le vecchie armi, l'aug mitico, il chargio visto che c'erano, non capisco bene come potrebbero essere inserite a meno che non inseriranno dei nuovi boss come la season 2 del capitolo 2. Questa è una buona immagine ma staremo a vedere quello che succede. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché stanno per inserire una nuova feature, una nuova cosa che si potrà fare, non sappiamo ovviamente da quale patch ma sarà possibile generare delle clip short mentre si gioca. Quindi se facciamo una bella kill, se c'è una parte divertente, se c'è qualcosa da clippare tra virgolette potremo farlo direttamente in game. Non si hanno altre informazioni per adesso su questa nuova funzionalità ma è una cosa che sicuramente rimarrà apprezzabile anche per tutti voi che magari fate i video su YouTube. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono anche degli piccoli easter egg nel santuario dei sette quindi quella location che è vicino alla statua gigante che è presente appunto in mappa. Abbiamo sette pietre e in ogni pietra c'è inciso sopra un simbolo che va a caratterizzare uno dei visitatori, fondazione, paradigma, le due sorelle, l'origine, il visitatore e lo scienziato. Non sappiamo se in realtà poi avranno una funzionalità proprio nella storyline ma è bene sapere che i visitatori e la storyline principale di Fortnite sono ritornati e probabilmente avranno la loro fetta in questa storyline. E andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi perché sappiamo dell'arrivo, certo, di una nuova arma presente nei file di gioco come state vedendo proprio qui sotto Item, Weapon, Ranged Pistol, Dual Hand Cannons quindi in arrivo una nuova doppia pistola indicativamente questa è un'immagine non ufficiale ovviamente che però ci fa un pochettino capire più o meno di che cosa stiamo parlando già sappiamo su Fortnite che le doppie pistole non sono proprio così malaccio ai tempi c'erano le doppie pistole quelle mitiche di Deadpool non so se vi ricordate ancora prima ci furono le doppie pistole di varie rarità un'arma che diciamo bisogna masterarla bene però se in questa season non decidessero di aggiungere dei pump o fare delle modifiche sui pump che già abbiamo avere una doppia pistola per aprire un fight potrebbe essere anche una scelta non così sbagliata andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché invece è in arrivo un NPC che molti fan riconosceranno immediatamente alla vostra destra c'è Mary Jane la ragazza presente come coprotagonista ovviamente nei film di Spider-Man nei fumetti, nei film appunto al cinema e Mary Jane from Spider-Man will be coming to the very soon quindi arriverà molto molto presto e in game sarà per iniziare un NPC che apparirà al Daily Bugle quindi quella location appunto dedicata a Spider-Man quella dentro il vulcano io credo che ci sarà uno sviluppo anche poi della skin di Mary Jane che potrebbe a quanto immagino arrivare anche nello shop per adesso questa immagine è davvero molto chiara e non vedo l'ora di vederla come NPC per capire anche se poi darà delle quest perché è stata trovata una stringa di codice nei file di gioco dove sembrerebbe che questo NPC dia delle quest per i punti esperienza non tantissime però una cosa carina da sapere andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi perché vi avevo già anticipato all'inizio del video all'arrivo dei dinosauri there will most likely be four different types of dinosaur quindi ci saranno almeno quattro tipi di dinosauri presenti in game il primo in realtà l'abbiamo già visto è quello che stiamo vedendo anche nell'immagine adesso ed è quello che abbiamo visto nel trailer sappiamo anche un'altra cosa sotto la neve c'è un dinosauro gigante che sta riposando come fate a capire dov'è semplicemente correndo nella neve ad un certo punto potreste trovare un enorme buco dal quale esce una specie di fumo colorato che non è altro che una narice del drago che sta respirando tra l'altro se noi torniamo al trailer di questa season 1 del capitolo 3 vediamo anche che nell'artwork quindi nell'immagine proprio principale come vedete qua sotto zoomato è presente proprio un dinosauro enorme ragazzi guardate quanto è grande rispetto agli alberi quindi probabilmente li vedremo nelle prossime settimane e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questo sarà il background della lobby dedicata al Winterfest e arriveranno anche delle skin a tema invernale in questo caso c'è un bundle come vedete Mida, la Banana, la Renegade in versione cristallo se non ricordo è l'altra skin in versione ghiacciata e poi un sacco di nuove skin appunto in arrivo nell'evento invernale dedicato di Fortnite ce ne sono davvero tantissime per tutti i gusti e quindi non vedo l'ora di vederle nel negozio e di poterle incrementare con il mio full shop e andiamo avanti a parlare dell'ultimo argomento di oggi perché rimanendo a tema Winterfest sappiamo anche dell'arrivo di alcune quest come vedete ad esempio Bush is Destroyed Consume Item oppure Snowman Near Enemy quindi abbiamo innanzitutto la certezza che torneranno i pupazzi di neve e questo è ovvio nel senso non potrebbero non tornare per il Winterfest e poi sappiamo anche che ci saranno appunto delle piccole quest che ci daranno punti esperienza insomma io credo che bisogna aspettare almeno la prossima pace per avere delle idee un pochettino più chiare io vi auguro ovviamente anzi mi auguro che questo video vi sia piaciuto vi mando un abbraccio grande un bacione noi ci vediamo in live sulla piattaforma viola oppure al prossimo video news ciao 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 Grazie a tutti.